Il giorno del delitto, l'assassina in fuga, Anna Lucia Cecere, venne scambiata per la vittima Nadacella da un test chiave. Erano straordinariamente somiglianti. Il PM lo ha documentato nelle carte dell'indagine che hanno portato alla richiesta di processo per l'omicidio presunto di Nadacella, una giovane segretaria impiegata presso lo studio del commercialista Marco Soracco. Il tragico evento si è verificato la mattina del 6 maggio 1996 a Chiavari, Genova, costituendo ancora oggi un enigma irrisolto che, negli ultimi mesi, ha visto emergere diversi colpi di scena. La criminologa Antonella Delfino Pesce è stata fondamentale nell'indagine, scoprendo elementi cruciali che potrebbero portare a una svolta nel caso. In seguito alla riapertura delle indagini, la procura ha raccolto prove sufficienti nei confronti di Anna Lucia Cecere, attualmente residente in provincia di Cuneo. Nei prossimi giorni spetterà alla giudice per le udienze preliminari, Angela Maria Nutini, decidere se Cecere dovrà affrontare un processo per l'omicidio della giovane segretaria. Soracco e sua madre, Marisa Bacchioni, sono a rischio di essere rinviati a giudizio, poiché sono entrambi accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni, il pubblico ministero afferma. Le indagini compiute dimostrano che Soracco, insieme con la madre Marisa e la zia Fausta Bacchioni, nel frattempo deceduta, mantenne il silenzio sull'identità dell'assassina, sia all'epoca che oggi, nella ragionevole convinzione che ciò costituisse un sicuro vantaggio personale. Le prove acquisite dimostrano infatti che la segretaria era venuta a conoscenza di qualche informazione che doveva rimanere segreta all'interno dello studio, e forse disponeva anche di documentazione a riguardo. Una straordinaria coincidenza portò Anna Lucia Cecere, per motivi di rancore e gelosia, ad aggredire la segretaria nello studio, ove la stessa si trovava la mattina del 6 maggio 1996, e dove certamente sopraggiunse il Soracco. L'uomo, al fine di mantenere segrete le informazioni scoperte da nada e ragionevolmente nella convinzione di correre rischi concreti di un coinvolgimento nell'azione omicida, con il supporto delle due parenti e con successivi autorevoli consigli, assunse una condotta reticente e depistante con la polizia, sia all'epoca delle prime indagini che nel corso di quelle più recenti. Secondo l'accusa, se Cecere ha compiuto l'omicidio di Nada in un impeto di rabbia incontrollata, Soracco, sua madre e sua zia avrebbero coperto la presunta assassina per timore che attribuirle la colpa avrebbe portato alla luce le scoperte di Nada sul conto del commercialista. Il PM aggiunge che la distanza tra l'ufficio in via Marsala, dove avvenne l'omicidio di Nada, e l'abitazione di Anna Lucia Cecere in via Dante è di appena 90 passi, percorribili in un minuto. Nonostante la Cecere fosse subito sospettata, gli investigatori non riuscirono a raccogliere alcun elemento incriminante. Il 9 agosto 1996, alcuni mesi dopo il delitto, una donna non identificata chiamò la casa del commercialista. La madre rispose alla chiamata. La donna misteriosa affermò di aver visto Anna Lucia Cecere, sporca di sangue, fuggire con un motorino dalla scena del crimine il giorno dell'omicidio. Marisa Bacchioni non sembrò sorpresa, come riportato nelle carte. La Bacchioni descrive la Cecere come una persecutrice del figlio, tanto da aver dovuto chiedere a Nada di non passare più le chiamate di lei al figlio. All'interlocutrice anonima, la donna raccontò che la sera dell'omicidio aveva avuto il coraggio di chiamare un'amica del figlio perché voleva prendere il posto di Nada, appena defunta, al lavoro. Tuttavia la telefonata è stata completamente ignorata e nonostante la presenza di una registrazione, negli investigatori, nella madre di Soracco, hanno mai menzionato l'episodio. Nonostante la sua rilevanza nell'indagine, è rimasta un argomento non trattato. Ma non è tutto. Una vicina di casa, che risiedeva sullo stesso pianerottolo dell'ufficio di Soracco, riferì agli agenti di aver visto Nada entrare in ufficio alle nove del mattino. Questo aspetto è apparentemente contraddittorio, poiché si sa che la ragazza era già arrivata prima di quell'ora. La spiegazione, secondo quanto riportato dalla procuratrice d'Otto, è che la testimone potrebbe aver confuso l'assassina con Nada. Siccome è documentata la presenza in studio di Nada molto presto quella mattina, e siccome è documentata una straordinaria e sorprendente oggettiva somiglianza tra le due donne, è ragionevole considerare la vicina una ulteriore testimone oculare. Clamoroso.